Fellini non ha mai girato un'inquadratura a Rimini, ma non ci ha fatto manco una fotografia nella sua vita a Rimini, perché niente, se non il Grand Hotel, ebbe molti problemi con i suoi concittadini, perché non si riconoscevano in quella Rimini che lui raccontava, ma dicevo no, per tornare invece la sto tornando, mi perdoni, Bologna è veramente il luogo dove io sono stato cresciuto nella possibilità, nell'opportunità di sognare, mi è stato dato modo, dalla mia famiglia, da questa città, di illudermi e di sognare, di portare dentro di me questo sogno di diventare un giorno qualcuno che poteva raccontare, fare delle cose che agli altri non era concesso, questa vicenda affettiva, che non viene scalfita da nulla, da parte di questi due personaggi, che non so se lei conosce un po' i miei film, insomma, ci sono altri film, ti cito uno fra tanti, la seconda notte di nozze, albanese, che l'ama per sempre, e queste storie così